Io vengo da Firenze e sono qua per far vedere come la mia azienda negli anni 2000, ancora oggi, continua a utilizzare macchinari del 1700-1800 per la produzione di passamanerie e stoffe tutt'oggi richieste dalla clientela. La particolarità del mio lavoro è che noi prendiamo il prodotto grezzo, che è la seta, e dopo tutta la rivoluzione che avviene nella nostra fabbrica, la seta non è più un filato, ma diventa un oggetto. Può essere un cuscino, può essere una frangia, può essere qualsiasi cosa il cliente richieda, una bellissima stoffa. Comunque la particolarità principale del nostro meraviglioso setificio fiorentino è che ogni cliente ha un oggetto unico, che ha soltanto lui e nessun altro potrà avere, perché sono tinture fatte appositamente su richiesta della persona. Per me Homo Faber significa la capacità che ha l'uomo tutt'oggi di pensare a delle idee e renderle reali, cosa che ormai le macchine moderne non sono più in grado di fare. Cioè è l'unicità dell'oggetto che una persona può pensare e produrre con le proprie mani.